Ciao a tutti ragazzi, io sono Carly e qua ovviamente c'è Cimmia con Baby Yogurt, Mr. Potato, Artiglio, Petta la Guercia Benvenuti in questo nuovissimo video, oggi siamo di nuovo qua nell'Eight & Craft con un nuovissimo episodio ricco di avvenimenti Oggi ragazzi sarà un episodio super speciale perché sono intenzionata a trovare la magione e iniziare a concludere un po' il discorso Light & Craft Perché ormai abbiamo trovato praticamente tutti gli oggetti più rari, abbiamo veramente raccolto una marea di item infiniti E siamo arrivati ormai agli scoccioli, ci manca solamente il totem della non morte e trovare il bioma delle mangrovie Perché appunto ci serviranno per fare tutti gli oggetti che riguardano scale, le porte, le botole Allora io intanto nel mio inventario ho messo queste cose, addirittura ho fatto uno shulker box Perché finalmente direi che è arrivato il momento di farne almeno uno Vi faccio vedere al volo cosa ci ho messo dentro per partire insieme per questa avventura Ho messo 11 mele d'oro, praticamente tutte quelle che ho Due pozioni di rigenerazione che abbiamo accumulato nel corso del tempo e che un po' ho fatto anch'io Delle torce, a sto punto ci caccio dentro anche queste, no vabbè direi di no Un letto e tanta carne Beh direi che dovrebbe bastare Inoltre finalmente sono riuscita a mettere lealtà 3 al nostro tridente Sinceramente non ho capito la differenza tra lealtà 2 e lealtà 3 Però ho preso tutto, direi di sì, non manca nient'altro Letto, acqua Ora che ci penso non ho preso una barca, un attimo che almeno ne prendo una Tutte le nostre migliori avventure sono iniziate da questo lato Quindi io direi proviamoci, buttiamoci da questa parte Tanto oggi è in programma di fare un video super super lungo alla ricerca di questa magione E non so quanto ci metteremo sinceramente Non so se la troveremo in questo episodio Ma sono sicuramente deciso a trovarla Ecco una cosa che mi scordo sempre sono i materiali scarsi per queste occasioni qua Che adesso devo Ah che pazienza Comunque tutto sommato siamo ben equipaggiati Ora che ci penso in realtà oltre al totem della non morte Le mangrovie ci manca anche la nederite Che ancora non sono andata a prendere Abbiamo per il momento solo un frammento di nederite Ma non abbiamo il ningotto E questa cosa ci manca Però direi che poi del resto io ho controllato Abbiamo fatto praticamente tutto Come fai a capire se stai andando al lato giusto? Non ne ho la più pallida idea Potrebbe essere anche tutt'altra direzione Non lo so Potremmo camminare anche per più di 4000 blocchi Non lo sapremo mai Andiamo un po' a caso così Nel dubbio se ho lasciato qualche item alle spalle O qualcosa che manca lo possiamo prendere qua strada facendo Ecco forse questo portale in realtà l'abbiamo già visto No No non l'abbiamo mai visto Abbiamo mela d'oro Carica di fuoco Beh non lo so prendere Protezione 2 Lasciamo tutto lì La mela d'oro sì Però che non si sa mai È utile Una in più non fa male a nessuno Tanto ci facciamo anche un po' di pollo arrosto Perché non so esattamente quanto staremo via Non so neanche se torneremo a casa Se c'è una cosa che so però è che questa foresta è veramente infinita Cioè tra quanto finisce? Mamma mia Oh aspetta forse l'ho detto finisce qua No Continua per chilometri e chilometri infiniti proprio Oh Gesù Queste le abbiamo le bacche Sì le ho prese Ce le ho ce le ho Allora io direi Andiamo un po' a sentimento Come quando butti la pasta E facciamocela un po' via mari Ecco un'altra cosa che avrei potuto mettere anche nel Nello shulker box Eh il casco Per respirazione Invece no Non l'ho messo E niente Ora che mi viene in mente Nel tempio dell'oceano Noi non ci siamo mai andati In questa vanilla ovviamente E c'è qualcosa Dice qualche item Non credo Fatemelo sapere qua sotto nei commenti Se mi sto perdendo qualcosa Perché se io non ricordo male Ce l'ho rimasta proprio male Perché c'era C'erano solamente dei blocchi d'oro E nient'altro Quindi non ne vale la pena andare lì giù Ah e poi ci manca anche il secchio Con i girini Non ho preso alcun secchio Partendo da casa Ma strada facendo Potremmo farcene un paio Qua sembrerebbe terminare il nostro mare Ok Continuiamo a piedi Purtroppo Avrei potuto prendere l'elitra Ecco cosa potevo prendere Avrei potuto prendere un botto di roba in più Ecco ogni volta quando si parte da casa Non sai mai cosa prendere E poi strada facendo Ti viene in mente Che avresti potuto prendere tutto Vabbè speriamo solo Che questa magione Non sia troppo lontana Dai Non ho la più pallida idea Di dove io sia finita Però mi piace Quello che sto vedendo Molto figo Questo Questo bioma Tutto incrociato Con le montagne Ghiacciai Ci sa Mi piace tanto E Boh Proviamo a proseguire per di qua Non so ragazzi Non ne ho la più pallida idea Dunque sto già camminando da un pezzo E ancora Non ho visto alcun villaggio Non ho visto niente Siamo già un bel po' lontani Da casa qua Tra l'altro sta pure per venire il tramonto Direi che Piazziamo il letto qua E andiamo a dormire Perché così non vediamo mostri Allora il letto Ah ce l'avevo qua Non c'era bisogno di tirar fuori tutto l'arsenale qua Ok Oh Molto semplice Abbiamo evitato tutti Vedete Così facendo È perfetto Proseguiamo dritto per di qua Qua ci sono altre bacche Magari troviamo delle volpi Anche se poi in realtà Le volpi cos'è che fanno Precisamente Una volta che le hai domesticate Cosa servono Fatemelo sapere qua sotto Nei commenti Che sono curiosa Dove siamo arrivati Cos'è sto posto Ci posso entrare Senza essere uccisa All'ambicco Ah ma guarda Ma che figata Siamo entrati in un villaggio Ma io vi giuro Che una costruzione del genere Non l'ho mai vista Qua su Su minecraft Che strana No ragazzi Stavo per andare a dormire E guardate in cosa Mi sono imbattuta Io a torre dei pillager Poi gli andiamo un attimo A spulciare di in alto Per vedere se hanno qualcosa Che di solito L'ultima volta È stato un loot Molto molto fortunato Allora dormiamo subito Ok Andiamo subitissimo Dai pillager Che sono curiosa Di vedere che cosa hanno Fermi Fermi Non mi sparate Non mi sparate Sono del posto Vi prego Oh Liscio Oh È direttamente qua la cesta Ok Vediamo che cosa hanno Un altro corno No Che fortuna immensa Che fortuna immensa E poi cos'altro c'è Balestra Già tutto Patate Ciglio Prendiamo i lingotti Per fare un secchio Un altro secchio Che sicuramente mi servirà Oddio che paura Siete qua giù Via Aia Con chi pensate Avrei che fare Scusatevi Ce l'ho capito Qua giù c'è qualcos'altro Vai via tu No Niente A posto Si può uscire Ragazzi abbiamo trovato Un altro corno Che è super raro Perfetto Che fortuna immensa Io ho sempre una gran fortuna In queste cose Meno male Meno male Speriamo di avere abbastanza fortuna Anche con la magione Ragazzi Guardate Che cosa ho appena trovato Ho trovato le mangrovie E finalmente Possiamo anche completare Questo item Che fortuna Vedete la finestra Da facendo Abbiamo trovato Una marea di roba Già Allora Questo ci serve Bene Non ho preso un bel niente Perfetto Ok Sì Abbiamo anche questo Uh Che soddisfazione Allora Devo prendere abbastanza legna Per fare Ecco Questo in realtà Non mi serviva Devo prendere abbastanza legna Per fare più item Che questo mi serviva Questo E queste le butte In realtà Non mi servano Nulla Cosa Cosa ci faccio Con un tappeto Di muschio in mano Queste le buttiamo via Ok Prendiamo anche questo E poi per sicurezza Prendo Un altro Cosino Qui Microscopico Che non so mai Come si chiama Il propagulo Di mangrovia E che acqua lercia Che c'è qua sotto Ci sono Nei pesci tropicali Ma che ci fanno Qua i pesci tropicali Com'è possibile Allora Non entrerei lì Ma Continuerei dritto A sto punto Ragazzi Mi sono imbattuta In una Palude Sì E allora Morite Porca miseria Oh Pieno E pieno E pieno Forse anche lo slime In realtà ci mancava Come Come item Non ne sono sicura Però No forse l'ho trovato In una cesta Ranocchie Venite qua Una E due Più facile Di così Si muore Perfetto Perfetto Oggi Sosteremo qui Ok Nell'attesa Che nascano le uova Noi aspettiamo Qui intanto Mi sistema un po' L'inventario Userei Un pezzettino Di legna Per farmi un tavolo Da lavoro Mi faccio un bel bicchiere Perfetto Sì Finalmente Si sono schiuse le uova Vieni qua L'ho raccolto Ok Poi cos'altro Dovrei raccogliere Delle rane Basta Raccolgo anche Un altro girino Per sicurezza Ma sì Dai Allora Solitamente Almeno L'unica volta Che ho trovato La magione In vita mia Era in mezzo Una foresta Oscura Che si chiamano Gli alberi oscuri Scuri Oscuri E Qua in alto Mi sembra Di averne visto Qualcuno Vediamo Allora Li ho visti da là Quindi Credo che siano qua Proviamo un attimo A vedere Esatto Eccoli qua C'è anche un asinello Ciao Proviamo a vedere Qua in mezzo Se c'è qualcosa Anzi Pausa pranzo Un attimino Ecco Ragazzi Ragazzi L'ho trovata Ragazzi L'ho trovata Ragazzi L'ho trovata Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ok 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 Oh mio dio C'è voluto una vita Per trovarla C'è voluto una vita Sto registrando Da tantissimo Maledettissima Magione Oh mio dio Sono felicissima Sono felicissima Allora Vediamo di non morire adesso Perché sarebbe il colmo Veramente Eh io direi che siamo Già più a Di duemila blocchi Di distanza da casa Due tre mila blocchi Sicuro Ok Non ho neanche uno scudo Perché figurati Se me lo ricordo Lo scudo E che facciamo Entriamo da qua O ce la facciamo Con calma Dal basso Allora Lì sembrerebbe Eserci l'entrata Ragazzi Mi giuro Non ci credo Sono emozionatissima Allora Ecco Qua c'è l'entrata Però io Prima di entrare Vorrei un attimo Sistemarmi meglio L'inventario Allora Qua c'è Della bruttissima Gente Non mi correrà Addosso Stami alla larga Guarda Via Via Perfetto Uh Smeraldo Wow Allora Iniziamo da qua Le lei Qua dentro Ma che ci fanno qui Non lo sapevo Che le avessero messe Anche qui Poverini Andiamo Perfetto Seguitemi Continuiamo giù Per di qua No Qua ci sono già stati Uh Non mi uccidergli A lei Non mi uccidere Proprio Staglia la larga Brutto Manicoldo Ok Seguitemi Ho una marea Di allei Dietro Allora Dobbiamo andare Dall'altro lato Del corridoio Intenzione di esplorarla Tutta E non di fare Come ho fatto L'ultima volta Che sono dovuta Tornarci Perché Non l'avevo Esplorata Tutta Allora Qua Oh che paura Che paura E tre Fatemi vedere Se qua c'è qualcosa Uh cesta Con targhetta E nulla dentro Perfetto Come piaccia a noi Qua invece Si va da qualche parte No c'è uno standard Di cui non me ne faccio nulla Bene Usciamo da qua Fermi tutti Qua dietro Sento esatto Del movimento Via Perfetto Uh cesta Interessante Con efficienza Uno Vabbè dai Uno Due Morto E il ragnetto Ragazzi Siamo ufficialmente Al terzo piano Dove già sento Che ci sono I signori Quelli che hanno Il totem Della non morte Che non so come si chiamino Me lo scordo sempre Ma siamo qua Oh 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 Calma 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 Ok morto Qua su c'è qualcuno C'è qualche cesta Che devo vedere Vediamo Qua non c'è alcuna cesta Questi due Non mi hanno proprio Guardata Ah si che c'è Ho un secchio Targhetta Vabbè la prendo Di qua Due Tre Ottimo Morti Uh Eccolo Eccolo è lui Oh vedi Muori 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 Tipo subito Muori 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 Oddio Non ero pronta Tutto ciò Ah è già morto Perfetto Perfetto Ragazzi abbiamo Il totem Oddio Oddio Queste cose Via Che paura Che paura Dov'è Oh mio dio Via Dai Dai Morite Morite È stato più facile Previsto Ucciderlo In realtà Non mi aspettavo Un successone Così Se riuscisse a prendersi cose Sarai anche molto più felice Se invece L'ignorassi Vediamo Non mi seguono Sì che mi seguono Ah ah Maledetti Ok Ah Che paura Ragazzi Bisogna di mangiare Delle mele d'oro Perché si sta mettendo Un po' male qua Allora Ci diamo anche questo Oddio un altro di loro Fuori Sì Ho due totemi Della non morte Ok Sviniamocela da qua Sviniamocela così Non mi seguono più Andiamo 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 Usciamo da sto posto infernale Ho due totemi Ho due totemi Scendi Scendi Scappiamo Oddio Lì c'è da un altro Vabbè Non perdo Quest'occasione Come mai ce ne sono così tanti Ho tre totemi Scappiamo Dove si scende No 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 Non è di qua Non è di qua Non è di qua Non è di qua Aiuto Sti fantasmi Scendiamo Sì Sì Siamo giunti al termine Ci sono tutti gli allei qui Che mi stavano aspettando Ragazzi Ce l'abbiamo fatta Oh no no Arrivano Arrivano Mi inseguono Scappiamo Ragazzi Io spero veramente Che questo video Vi sia piaciuto Da carne Da cibi Da tutta la sua compa Dio Oddio E tutte Noi ci vediamo Prossimamente Con un altro video Ciao